Stage Academy Ballet organizza il primo campus estivo. Il campus è stato organizzato con lo scopo sociale, educativo e didattico per dare ai ragazzi in età compresa dai 4 ai 17 anni la possibilità di poter lavorare ed emergere in un ambiente altamente professionale. Il campus, questo nostro primo campus praticamente, la scuola di danza Stage Academy Ballet di Schiavonea è stato organizzato anche per dare la possibilità a coloro che non hanno mai frequentato danza ecco perché dai 4 ai 17 anni di poter avvicinarsi a questa disciplina. Il campus è formato anche per danza classica e contemporanea per cui abbracciamo un'ampia vasta gamma di tematiche culturali e formative. Danza Classica Accademica e Contemporanea Accademica. Per chi vuole iscriversi come può fare? Allora possono praticamente contattare i nostri numeri telefonici oppure scrivere una mail al stage academyballet.cocialibro.it per chiedere informazioni o passare direttamente alla nostra sede di Schiavonea via Gallipoli 5 per chiedere qualsiasi informazione che noi saremo pronti a dare a tutti coloro che sono interessati a questa iniziativa. C'è una data di chiusura per le iscrizioni? Per le iscrizioni in generale il 28 di giugno anche perché noi già apriamo il campus 11 giugno-15 luglio. Naturalmente dal 2 luglio al 15 luglio le iscrizioni sono rivolte maggiormente per ragazze dagli 8 ai 17 anni che hanno già frequentato danza perché hanno all'interno del campus, quindi dei corsi, un'ora e mezza di lezione di danza classica, un'ora e mezza di lezione di danza moderna al giorno per cui è un po' più intensivo. Mentre quello di giugno, oltre ad avere le lezioni di danza classica di un'ora o moderna, potranno soffrire insieme alla nostra staffa di animatori di poter frequentare la nostra scuola e divertirsi insieme a noi. Anche perché alla fine del campus noi stiamo organizzando anche uno spettacolo gratuito dove i ragazzi dimostreranno ai genitori e anche a coloro che sono in vacanza per Schiavonea le qualità raggiunte durante le lezioni, quindi con uno spettacolo pubblico gratuito, ci tengo a dire gratuito.